Questa mattina sono partiti gli esami di maturità in versione Covid-19 con le sue regole sulla sicurezza, il distanziamento sociale, le norme igieniche, le mascherine, l'organizzazione degli spazi. È stato un esame diverso anche per le modalità di svolgimento a partire dalle prove. In Campania sono oltre 66.000 che oggi hanno sostenuto l'esame di maturità, ha dichiarato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Sarà una maturità ridotta dopo un anno difficile per via dell'emergenza Covid-19. Affrontatela nonostante tutto con impegno e rigore nella massima serenità. È una tappa molto importante della vita e del vostro percorso formativo. La regione Campania, ha ricordato De Luca, tramite l'iniziativa Scuola Sicura ha predisposto tutto per arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni di sicurezza per gli studenti e tutto il personale. Stiamo allo stesso modo lavorando per garantire certezza e continuità didattica senza assurda interruzione alla ripresa di settembre. Gli studenti si sono presentati 15 minuti prima della convocazione e hanno lasciato l'edificio scolastico subito dopo la prova. I locali in cui si sono svolti gli esami sono stati organizzati in modo da garantire le misure di distanziamento tra docenti e tra questi e gli studenti. Tutti hanno indossato le mascherine, tranne gli studenti, durante l'esame orale, con le misure di sicurezza garantite, due metri di distanza. L'esame è un colloquio articolato e approfondito. Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo, discussione di un breve testo già oggetto di studio di lingua e letteratura italiana, analisi interdisciplinare del materiale scelto dalla Commissione, esposizione dell'esperienza Ptco, accertamento delle conoscenze e competenze di cittadinanza e costituzione.